Don Martino, oggi è il giorno giusto per parlare del suo ultimo libro, giusto? Sì. E allora ecco, faccio vedere questa mia ultima fatica, che poi è una delle 19 ceste di oschiere, se Dio mi permetterà di poter completare. Ecco qui vedi la chiesa di San Pietro. E' stata costruita nel 1960, quindi 56 anni fa. Quindi in questo libro ci sono tante immagini, tante descrizioni, tutto con il compito di presentare quello che si trova all'interno della chiesa. Sì, proprio di presentare tutto quello che c'è. Come ho detto, la chiesa di San Pietro al patronato non esiste, sono andato, l'ho già detto, anche in internet, non ho mai trovato niente. Eppure c'è da ormai 56 anni, dovrebbe anche solo avere l'onore di essere citata. Non è grande, non va paragonata alla Basilica, alla Madonna del Paradiso, di Sant'Anna, alla Chiesa dei Disciplini. Però anche lei ha diritto a un suo posto. E qui nella chiesa, poi, oltre che questi artisti della fresco, come ho accennato in altre interviste, e come ci sono altri, ci sono dentro anche artisti moderni, come il Brolis, il Guidotti, l'Angelo, Gritti, che ha fatto la Madonna. Ci sono dentro vari artisti, abbiamo, come è già stato detto, anche nel Nartece ci sono altre immagini, quelle dell'ultima di Carubbia. La chiesa è bella, solo volevo dire che nella chiesa, sotto alla chiesa, nel seminterrato, c'è il teatro, che tu puoi far vedere qui, il teatro. È stato costruito appunto dall'architetto Sesti, ha unito il gioco alla preghiera, che penso sia la cosa più bella. E chi fosse interessato a questo libro? Se è interessato a questo libro, fanno anche un'opera, prendono due piccioni con una fava, fanno un'opera buona, che è di aiutare, perché io non ho finito la chiesa. Da quando sono venuto, 55 anni fa, è stato uno dei miei primi impegni, mettere a posto la chiesa. E quindi continuo sempre a mettere cose nuove, a sistemare. Devo sistemare ancora l'ingresso del sagrato, che non è stato completato, spero di poterlo fare. Chi vuol prenderlo, fa un'opera buona, nello stesso tempo anche un'opera istruttiva, perché si parla in modo particolare di artisti di Clusone. Basta venire a vedere. Per esempio nel Nartece c'è la cappella di San Beati e Santi Bergamaschi. 29, proprio pennellati con precisione. E questa è una novità. Non so se c'è un'altra chiesa dove sono raffigurati tutti i Beati e i Santi, compreso quello di Clusone, il Beato Giovanni Marinoni, da Clusone. Tanti forse non lo sanno, ma è così. Il libro si trova tutti i giorni, prima della celebrazione della Santa Messa, ore 17.30, e dopo la Santa Messa, dopo le ore 18.00. Quindi c'è un'offerta di 10 euro, vedrete che ne vale molto di più. Non è un portafortuna questo libro, ma è una benedizione del Signore. Mettetelo dentro tra i vostri libri, vedrete che qualcosa di buono vero darà sempre. Grazie e buona lettura. Grazie.